Grande partecipazione di amministratori, operatori turistici e balneatori giunti all'Aquila durante il Consiglio regionale convocato proprio per stanziare risorse per i danni causati dalle ultime mareggiate per chiedere in particolare dal Terramano la zona più colpita interventi strutturali di ripascimento e messi in sicurezza al posto di quelli in somma urgenza a cui le varie amministrazioni hanno dovuto ricorrere negli anni in occasione di ogni calamità. Una delicata situazione su cui il governatore Marsiglio ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro attualmente però senza copertura finanziaria per far fronte alla necessità immediate più 1,5 milioni di euro ripartiti su due annualità 2020-2021 per un totale quindi 3,5 milioni di euro somma che però secondo gli operatori non bastano assolutamente per risolvere il nostro problema. Non bastano assolutamente, sono pochi per tutta la costa abruzzese, poi considerando che 2 milioni sono stati e che devono trovare tra l'altro ancora le risorse, non si sa ancora se c'è la copertura finanziaria ma poi 750 mila euro 2020 e 750 mila euro nel 2021 per mettere riparo alle infrastrutture pubbliche, strade sono pochi, sono pochi, la regione ci deve credere di più, deve capire che è una fonte di ricchezza per l'Abruzzo quindi si tratta di lavoro, non è soltanto una questione di imprese balneari o alberghiere ma è tutto l'indotto che è tutta la forza lavoro che viene a colpire. Voi avete chiesto anche un aiuto dal punto di vista della tassazione? Sì, per quanto riguarda la tale e per quanto riguarda la sospensione delle concessioni demagnali almeno per il biegno 2020-2021, tanto per dare una ripresa di fiato per tutte le imprese per poter affrontare la prossima stagione. La prossima stagione è fortemente a rischio? È un problema, per molti è un problema, per molti sarebbe veramente un problema. Ripeto, la regione ci deve credere più nella salvaguardia della costa, barriere rigide, quello che ci serve però è ora che si mette mano a tutta la costa in maniera seria e decisa.